Buonasera a tutti, è mio gradito compito parlare questa sera dell'ultimo canto dell'Inferno, della prima cantica, il 34esimo, un luogo decisivo per certi aspetti, per più aspetti, nel percorso dantesco, ma devo dire anche una sorta di momento di prova anche per gli interpreti, che vedono il loro compito per alcuni aspetti facilitato dal trovarsi in chiusura di quel percorso accidentato, tellurico, che è stato il viaggio attraverso il male da parte di Dante, ma per altri aspetti vedono in realtà complicato un po' il lavoro dal fatto che indubbiamente all'interno di questo canto trovano completamento più cose, più fili, trovano soluzione, molti dilemmi e molte ambiguità che sono state disseminate all'interno della materia del poema, ma diciamo queste sono soltanto osservazioni generiche ed esterne a una sostanza vigorosa e rilevantissima per certi aspetti anche di commovente altezza rappresentativa di fronte alla quale noi ci troviamo con questo canto. È un canto che è molto mosso a dir la verità, ma non soltanto per il fatto che ha a che vedere con quella figura centrale di Lucifero che rappresenta il simbolo onnipervasivo dello spirito che incarna l'inferno. È un canto che inizia con parole che sembrano davvero solenni, apparentemente solenni, pronunciate da Virgilio attraverso una citazione. Qui Virgilio con le parole vexilla regis prodeunt inferni cita in parte, in parte, l'inizio di un inno alla croce di Cristo, un inno composto nel VI secolo d.C. da Venanzio Fortunato. È una citazione però, è come vi ho detto, che solo in parte riproduce l'incipit di questo inno perché, diciamo, Dante modifica intenzionalmente il testo dell'incipit. Velocito era un inno molto noto che si recitava ad vesperas, quindi in ore serali, ed è legato a dei temi che, vedremo, sono abbastanza caratteristici del canto, molto ben legati alla sostanza del canto. Comunque, questo è il testo originale dell'inno di Venanzio, vexilla regis prodeunt, fulget crucis misterium, quo carne carnis conditor, suspensus est patibulo. Come avrete subito notato, qui Dante ha aggiunto la parola inferni, vexilla regis prodeunt inferni, mentre invece il testo di Venanzio Fortunato predica vexilla regis prodeunt, fulget crucis misterium. Ben diverso, ben diverso, il proseguo del testo. Di che cosa si parla qui nella verbalità dantesca? Di un movimento, un movimento, che è quello delle insegne dell'esercito di Satana. L'esercito di Satana. I peccatori dannati, gli operatori del male, e via dicendo. Ma nell'inno ci si riferisce a tutt'altra cosa, a un tutt'altro movimento, al misterium crucis, e al movimento dei bracci della croce di Cristo, dei bracci della croce di Cristo e via dicendo. Un'altra cosa. Comunque è un movimento che noi dobbiamo considerare del tutto apparente, nel senso, cioè, non dice di un movimento reale o di vessilli di un esercito che si accosta, che procede e via dicendo. Perché in realtà, perché in realtà, sono i due pellegrini, sono Virgilio e Dante, che si muovono verso. Qui c'è soltanto una verbalità di questo tipo, delle parole che, appunto, resistono così in sospensione e vengono citate da Virgilio. Certo, questo dettaglio di vessilli militari che si muovono richiama subito alla mente del lettore esperto un'immagine analoga e forse calata, anche senza forze, calata da Dante nella tessitura della commedia in una fase più avanzata e di più matura riflessione sul tema di immagini in movimento. Ricorda, in effetti, i vessilli dell'esercito di Traiano nell'episodio della vedovella che chiede giustizia all'imperatore in quell'episodio che sarebbe, nella finzione narrativa, d'affigurato in uno dei bassorilievi della cornice dei Superbi nel decimo canto del Purgatorio. Il decimo canto del Purgatorio. I dico di Traiano imperatore e una vedovella li era al freno di lacrime atteggiate e di dolore. Intorno a lui parea calcato e pieno di cavalieri e l'aguglie nell'oro sovressi in vista al vento si muoviono. L'aguglie nell'oro sovressi in vista al vento si muoviono. Tenete conto del fatto che qui si tratta di un basso rilievo. Sono quell'esempio straordinario, eccezionale, davvero un'ammirabile creazione dantesca, è visibile parlare di questa creazione divina in realtà, non dantesca, perché a parlare propriamente si tratta di un esempio di arte divina che riesce a far muovere le immagini, scusate, riesce a far muovere ciò che Dante vede scolpito sul basamento e sulle pareti della cornice dei superbi. Esempio di arte divina superiore all'umana perché presenta forme di vita e di movimento. Un luogo, questo lo sapete, del poema in cui Massimo è l'impegno dantesco alla movimentazione retorica del registro espressivo e rappresentativo, con grande forza espressiva di enargheia, di energia e di potenziamento retorico della parola, Dante gareggia con l'arte divina, cerca anche lui di poter raffigurare queste forme in movimento dotate di senso superiore all'umano. Vediamo invece che in questo canto trentaquattresimo con questa immagine dei vessilli dell'esercito di Satana, Dante vuole principalmente conferire un'idea che è ben contraria a questa dell'arte divina e del visibile parlare, vuole conferire un'idea di immobilità, di inazione, di inerzia, di inerzia. Lucifero, dunque, se vogliamo tenere il paragone su questi registri, Lucifero come culmine di una creazione che porta all'immobilità e non alla vita vera, in poesia, in arte, nella vita, e che al massimo nella prospettiva della riflessione dantesca di questo tipo, su questo registro, serve rappresentare l'antitesi, l'antitesi più sostanziale alla vita vera, al movimento positivo, al dinamismo dell'essere che Dio infonde al cosmo, al mondo. Ma di questo diremmo meglio prima. Mi premeva sottolineare questo piccolo riferimento a un'idea di finto movimento, di finto dinamismo, che Dante con questa citazione colloca qui, ben consapevole, di usare gli strumenti giusti. dunque l'avanzare dei sigli del re dell'inferno non va inteso in senso letterale, visto che oltretutto Lucifero è conficcato, è immobilizzato nella ghiaccia di Cocito e nessun altro rappresenta il suo esercito, se non i dannati immobilizzati nella ghiaccia. quindi nessun movimento. Sono i poeti in realtà dentro la finzione narrativa ad avanzare e questi vexilla dovrebbero rinviare più che altro ai tempi escatologici, a un valore escatologico del tempo e del movimento, sono le insegne simbolo del male, le insegne simbolo di Satana stesso, il riferimento a Apocalisse ventesimo 8-9 eccetera, sono le bandiere di Gog e Magog dei popoli che poi arriveranno a dominare il mondo con l'anticristo e via dicendo. E l'annuncio dunque della fine apocalittica del tempo e dei valori umani. ora l'inno di Venanzio Fortunato che qui Dante riutilizza era stato composto quando l'imperatore d'Oriente Giustino II così si narra appunto donò a Santa Radegonda una reliquia della croce di Cristo è un pezzo del legno della croce di Cristo dell'inno in vita. Certo serve questo testo a mettere davanti agli occhi del lettore l'immagine della croce simbolo questa sì di un dinamismo di una dinamica quella che è della redenzione in Dio eh l'inno infatti si riferisce proprio a un effetto di movimento dei bracci della croce che poi abbracciano il mondo elemento che diventerà per capovolgimento della situazione narrata simbolo e segno invece di un respingimento per via di immobilità della rappresentazione di un satana di un lucifero immobile eh respingimento del della redenzione stessa che non può avvenire ovviamente attraverso il corpo di lucifero ma solo attraverso il corpo di Cristo eh quindi quel luminoso crucis misterium che viene evocato dall'inno di Venanzio fortunato diventa qui con questo gioco verbale di Dante eh che pone questi vexilla inferni che si muovono non si muovono eccetera eccetera viene ribaltato in un altro misterium che è quello della iniquitatis eh il mistero del male della colpa priva di revenzione dunque quella piccola giunta del inferni eh vexilla regis prodeunt inferni è proprio uno dei segnali di quel rovesciamento del sacro e dell'eccelso che serve a suggerire eh tutta una sfumatura di sacralità negativa e perversa che prende corpo sempre più deciso sempre più intenso retoricamente parlando intendo col prosieguo del dire dantesco proprio nei termini di una immobilità di fondo di falso o perverso movimento della scena legato alla presenza di Lucifero dunque il contrario delle funzioni di un'immagine trinitaria come è stato detto ormai a sazietà dalla critica ma del resto va notato anche seppure una notazione di passaggio come sia Dante stesso a farsi gelato e fioco eh lo dice chiaramente al verso 22 del canto prova una sorta di paralisi che qualcuno eh ha scambiato eh come una eh deludente inettitudine del poeta come se fosse preso da una certa inadeguatezza da una incapacità nel rappresentare questo eccesso di materia questo eccesso del male infernale può sembrare anche sorprendente e lo è per certi aspetti pensare in questi termini però diciamo può sembrare anche abbastanza approssimativo dire così Dante in difficoltà di fronte alla materia certo lo è stato più volte nel corso dell'inferno nel corso del suo viaggio lo sarà a maggior ragione in paradiso quando si troverà abbagliato da sostanze superiori dalle sostanze prime e via dicendo in realtà Dante sembra partecipare come gli è accaduto assai spesso in altre circostanze precedenti della natura negativa di quello che è in gioco qui del luogo della situazione cioè il degrado di una creatura di una creazione un tempo divina già divina e ora subumana ferina diabolica degradata una forma della creazione degenerata rispetto al principio del creare divino e quindi presentata come il massimo non della vita delle forme per usare una celebre espressione dello storico dell'arte Fossillon ma della loro inersia della loro inersia della loro incapacità creativa e di movimento e di dinamica quando le forme appunto sono prive del soffio della grazia dunque dunque ecco di nuovo il tema dell'incarnato dell'incarnazione della creatura richiamata dall'inno che si recitava appunto ad vespera se portava in campo la passione di Cristo il corpo di Cristo mentre adesso questo incarnato questa creatura che altro non è che un corpus diaboli questa incarnazione perversa esprime soltanto l'immobilità negativa di questo tipo di creazione e di questo tipo di creatura non la dinamica dell'amore e della grazia ma il contrario è la cancellazione della vita delle forme e va registrata anche una conseguenza straordinaria sul piano del comportamento del personaggio Dante di Dante personaggio che dice infatti io non morì e non rimasi vivo pensa oggi mai per te sai fior di ingegno qual io divenni d'uno e d'altro privo diventa privo della morte e privo della vita contemporaneamente è uno stato di assoluta indecisione questo sì questo Dante lo dice molto chiaramente e notate che è un diciamo una condizione intellettuale vedete le espressioni che la voce di Dante che calca sull'ingegno sul pensare c'è un appello al lettore al lettore osservatore e via dicendo è in gioco l'intelletto di Dante che è costretto alla paralisi che si trova in una situazione di blocco in un cortocircuito vero e proprio è privato Dante qui si dice Dante privato di una condizione partecipativa dal punto di vista emotivo si trova nella condizione di non dover provare quella pietà quella pietas che aveva portato Dante a un'espressione molto simile che sicuramente avete ricordato quando ho detto io non morì e non rimasi vivo quel e caddi come corpo morto cade del quinto dell'inferno che simboleggiava come ben sapete nel canto di Paolo e Francesca è una morte metaforica Dante muore come gli amanti folli perché come loro ha creduto in un certo tipo di passione in un certo tipo di poesia cortese non entro in questo argomento come è ovvio ma mi premeva dire appunto che qui Dante riporta un'immagine che lo mette a confronto con la possibilità di condividere sentimenti con i peccatori o con la situazione del peccato che si trova di fronte e del resto che ci sia un aggancio di questo tipo vale a dire Dante che sta dicendo io devo stare molto attento devo avere molta prudenza a non lasciarmi coinvolgere da questa situazione perché altrimenti mi trovo proprio in uno stato mortale in uno stato che non è una condizione di un intelletto vivente ma quella appunto di un blocco psichico e che ci sia un collegamento con cadi come il corpo morto cale e via dicendo ce lo dice ad esempio il fatto che il doloroso regno è richiamato al verso 28 il doloroso regno degli amanti folli che riproduce un'espressione straordinaria di virgilio il lamentabile regno dell'ade e qui ritroviamo invece nel canto 34 il doloroso ospizio del verso 16 il luogo del dolore ora non è un condividere questo di Dante neppure più di quella morte metaforica per cui poi dopo aveva recuperato l'intelletto dinanzi alla pietà dei due cognati la mente che era svanita dinanzi alla pietà dei due cognati perché Dante si dice qui preso da un vero ottundimento dei sensi una sorta di rallentamento delle sue capacità delle sue potenzialità inventive ed espressive circondato com'è per di più dalla nebbia da una nebbia e da una condizione di crepuscolo quale viene citata ai versi 4-9 del canto elementi che per parte loro servono certo a evocare ancora di più ulteriore condizione di fisicità di materialità bruta della scena e scusate per questa via si evoca ancora una volta un legame che è tipico della poesia dantesca fra presenza del negativo presenza del demonio e le forze aeree le perturbazioni atmosferiche una meteorologia umana riportiamo pure alla mente se volete l'episodio di buon conte da montefeltro e della sua vicenda non si evoca certo così l'intemporalità armonica dell'eden o dell'età dell'oro e dunque anche questo potrebbe per da un certo punto di vista spiegare l'imbarazzo di cui vi sto dicendo da parte di qualcuno che ha accolto una minore carica rappresentativa nel fare di Dante in questo questo ultimo canto un certo suo impaccio ma che è ovviamente voluto ed è in rebus è nelle cose che se ci pensate qualcun altro ha avanzato questa idea anche nel momento culminante del viaggio oltremondano al canto trentatreesimo del paradiso e che quindi invece questa condizione la dobbiamo riferire a questo blocco del negativo la obtrusione del negativo una incapacità in parte almeno in parte condivisa da Dante con la situazione e non smentita dal poeta anzi rappresentata intenzionalmente in questi termini perché lo scopo in che cosa consiste? No nell'indurre il lettore a pensare che Dante prova un certo coinvolgimento magari positivo un'attrazione come gli è accaduto di far gli è accaduto di far trapelare in altri momenti della sua poesia una gioia del sapersi inadeguato a rappresentare che ritroveremo invece un senso ben diverso da quello che abbiamo qui il paradiso trentatré ho quanto è corto il dire come fiopo al mio concetto e questo a quel è tanto che non basta a dicere poco insomma la verbalità dantesca si offre qui fiocca indebolitia perché è commisurata alla sostanza all'insufficienza terminale della materia infernale e quello che domina non è non può essere il pianto o la pietà del personaggio ma ben altra cosa il silenzioso pianto di lucifero davvero a questo punto una condizione generale di non partecipazione di auto esclusione da parte del poeta una diminuzione anche possiamo chiamarla della cognizio affettiva di lucifero che come vedremo fra poco oltretutto piange per un artificio meccanico e non certo per pena o per rammarico o per un altro sentimento ma conta molto anche dire di alcune caratteristiche di quanto viene narrato all'interno del campo caratteristiche di lucifero ad esempio creature inerte come vi ho detto non permeata dal dinamismo del del creato divino anzi il suo dinamismo è rappresentato come del tutto artificioso e come retroverso centrato su una molteplicità di elementi una combinazione una giusta posizione di più elementi analogici una sorta di disarticolazione che non viene riportata ad un il confronto per darci un'idea per darci un'immagine di lucifero Dante parla del mulino che il vento gira poi fa il confronto con un gigante poi c'è un pipistrello una macina la maciulla che divora brutto cassio eccetera e infine l'immagine del vermo lucifero una macchina è un congegno certo composito ma sopra ogni cosa disfunzionale una pluralità di cose non riportate a organismo oltretutto dotato di una certa policromia di un superficialissimo ornamento coloristico che poi qualcuno ha interpretato simbolica giustamente dal punto di vista simbolico soprattutto per le tre facce e via dicendo queste tre facce a loro volta replica moltiplicazione inutile insulsa dell'unicità di forme e colori e del volto umano e dell'effigie trinitaria naturalmente dunque lucifero come imitazione disarticolata della gloria divina della perfezione del corpo divino e oppositiva a questa sua alla sua funzione armonizzatrice e unitaria proprio perché intesa la distruzione dell'uomo dell'animo umano satan ha ridotto dunque a un immoto edificio è la parola che dante usa qui non appena vede questa figurazione un edificio che a differenza dell'empireo che inchiude tutto l'universo contiene soltanto il corpo del principe delle tenebre e allora due parole anche sul pianto di lucifero silenzioso non unito a parole ma mescolato guarda caso a sanguinosa bava anche questa non altro che una degradazione a una condizione animalesca visto che qui c'è sottostante anche il ricordo una citazione virgiliana sull'immagine del toro morente mixtum spumis vomit ore cruorem comunque forma anche questa non certo di una pietà di un sentimento ma di un estremo atto di odio verso l'umano è un pianto non coinvolgente è silenzioso rivolto a se stessi dentro di sé privato odio verso la condizione degli umani in quanto esseri che provano sentimenti e che comunicano fra di loro attraverso le parole oltretutto questo pianto luogo di raccolta delle acque di scarico delle tè dunque condensato di tutte le colpe umane altro che pianto di rammarico o di pietà condensato di tutti i peccati che poi verranno lavati dalla purificazione purgatoriale e pianto allora non come segno di partecipazione di condivisione per la ripetere ma come mancanza di essere secondo l'espressione tomistica riconoscimento di una totale sconfitta di sé in quanto subordinazione estrema coatta alla giustizia divina unica forma brutale e incomprensibile di partecipazione alla sua azione un pianto dunque che fa parte che è espressione solo di un brutale meccanicismo esito della sconfitta e della subordinazione eterna rispetto al fare di Dio e dunque riduzione al silenzio cancellazione della parola in altre circostanze lo sapete spesso Dante per rappresentare la contrizione di qualche peccatore o altro altre situazioni mescola pianto le lacrime alle parole e via dicendo qui nessuna partecipazione emotiva a niente silenzio che poi lo vedremo sarà doppiato anche dallo stesso personaggio di Bruto che non fa molto dunque vi dicevo Lucifero come un edificio ora noi sappiamo che i diavoli sono caratterizzati nel corso dell'inferno da un da un da un grande attivismo da un grande dinamismo per quanto stolido e senza obiettivi veri i guardiani di dite i malebranche il diavolo loico anche quello che tortura i seminatori di scandalo e di scismo oppure pensate anche ai giganti e Lucifero il suo dinamismo è tutto concentrato nel suo essere un edificio una massa un'immota combinazione di elementi disparati che sono privi di una funzione reale e positiva vanno a fare cioè un composto quasi arcimboldesco privo di un orizzonte costruttivo di un fine costruttivo cioè a fare una macchina un congegno che non ha un suo velle è ridotto a un'azione coatta così come un tempo questa volontà la volontà di Lucifero del più bello di tutti era stata obliqua e adversa fu Tommaso d'Aquino a sottolineare che Lucifero aveva peccato non nel voler uguagliare Dio che era cosa impossibile per principio ma per aver immaginato superbamente di conquistare un primato una beatitudine per forza e volontà propria con le proprie virtù eccelse per un proprio disio e un proprio velle senza l'aiuto il soccorso della grazia per cui lo slancio cognitivo di Lucifero la sua chiamiamola così dinamica ascensionale di partenza non poteva che finire in una caduta la caduta degli angeli ribelli poi per rinchiudersi in che cosa nel bozzolo inerte della sua impermeabilità della sua incapacità di muoversi e di creare chiuso in sé come un sepolcro un edificio in modo che persino la terra gli si sottrae non vuole avere contatto con lui altro legame pervertito comunque rovesciato con la materia brutta della quale Lucifero dovrebbe essere ed è il massimo rappresentante quindi una impotenza totalmente appiattita sul negativo sul non essere e che può risultare soltanto immobilità o finto dinamismo ecco di conseguenza l'indurimento del velle della volontà di Satana che per via del suo maladetto superbire lui il primo superbo e somma di ogni creatura alla fine cadde acerbo indurito indurato bloccato in uno stato di inerzia irrimediabile senza sviluppo e che pare benissimo corrispondere a ciò che non si è maturato e non ha preso più vita grazie alla luce della grazia infatti fu corto ricettacolo del bene infinito che è Dio come si dice nel diciannovesimo del paradiso non si è potuto giovare Satana di quella forza propulsiva dinamica appunto che caratterizza il percorso di ogni anima e che anche Dante sta tentando di seguire di mettere in pratica per rimediare all'impotenza anche all'aborrare della sua penna all'approssimazione della sua virtù poetica ma non è solo questione di pianto e di velle ridotto all'immobilità si consideri quel vento in cui consiste parte tutt'altro che esigua della azione o meglio della non azione di Lucifero quel vento non è una forza vivificante e ascensionale come lo spiro divino come il pneuma divino ma è il prodotto delle ali del mostro infernale è una forza che immobilizza e non vivifica anzi blocca ogni forma vitale riducendola a una sorta di fossile una festuca in vetro bellissima l'immagine del commentatore Petrocchi che parlava qui della necessità poetica che sollecitava la pittura di un quadro vario e composito in vero come un acquario ghiacciato dove le posizioni dei pesci fossero rimaste incomprensibilmente differenti l'azione del diavolo porta l'azione del diavolo porta a immobilizzare il mondo e gli esseri del peccato che lo compongono ombre ricoperte di ghiaccio che traspaiono come festuca in vetro questa mole questo congegno di azione coatta e nefanda ridotta automatismo e corporeità insulsa centrata in un luogo dove non c'è forma di comunicazione a una certa altezza del suo discorso anche Dante si ritrae dalla comunicazione dice non dimandare lettore chi non scrivo vuole tacere non farsi rinchiudere nemmeno nella materialità di parole umane che non hanno ancora la forza del divino riducendo quindi al minimo il suo stesso impegno verbale ecco la ragione dell'imbarazzo di Dante e poi c'è c'è Bruto che non fa molto che si oppone al verbo incarnato anche lui ogni cosa si svolge in ragione di un'azione cieca e gorgogliante se non muta ripetuta per l'eternità oggetto anche di disprezzo da parte del poeta alla fine oggetto di disprezzo da parte di Dante che alla fine dice è un tutto ora l'abbiamo visto è un tutto lasciamolo stare ma la notte risorge e oramai è da partire che tutto avè inveduto è completo è completo stravolgimento è completo questo stravolgimento della sacralità della creazione che Dante ha voluto costruire con questa mirabile invenzione anche con l'immagine dello scuro bozzolo posto alla massima distanza da Dio e dal quale nulla si genera un verbo appunto inoltre questo è il luogo di ogni peso Lucifero è da tutti i pesi del mondo costretto il punto più basso della creazione e della materia creata il punto al qual si traggono d'ogni parte i pesi si dice il verso 118 ben differente dal punto di maggior letargo a chiusura del paradiso e del viaggio dantesco dove all'interno del quale si squaderna e si supera la storia di 25 secoli dell'uomo e via di c'è punto di blocco del dinamismo cosmico centro di gravità del male cortocircuito di ogni possibile dinamismo perché centrato sulla densità inerte di una materia brutta fissata in interno a una condizione di ripetizione della natura inattiva del male davanti a questo peso ecco allora Dante farsi leggero quasi opponendo un suo volo dopo la paralisi che lo ha preso e di cui vi ho avvisato nell'arco del canto senza cura dal cur riposo per staccarsi dall'inferno verso il chiaro momento mi preme ricordare allora anche quanto questo volo questa ascesa finale di Dante si contrappone per l'ultima volta alla pesantezza di Lucifero che oltretutto avendo sei ali potrebbe essere ancora assimilabile ai serafini ma Dante ha cura di dire che si tratta di ali di pipistrello non sostenute da una spinta ardente da un ardore serafico verso un volo celeste ma prese dalla sola generazione di un vento gelido in quest'area del basso inferno e legate all'idea di un volo oscuro un volo notturno San Bernardo lo sappiamo dice che a Lucifero erano rimaste solo tre ali quelle di sinistra che rappresentavano le facoltà naturali in opposto alle altre tre quelle di destra i doni della grazia che invece gli erano venuti a mancare alla fine Lucifero è chiamato al verso 127 Belzebù che come sapete significa il signore delle mosche secondo l'etimologia medievale naturalmente quindi non abbiamo più a che fare con il virgiliano dite non abbiamo più il biblico Lucifero ma un essere schifosamente ridotto ai minimi termini anche in quell'attributo del volare che doveva essere la sua caratteristica principesca il segno della sua bellezza e della sua elevatezza un volare che non può avere più a causa della condanna divina in conseguenza della condanna divina qualità angeliche di nessun genere pertengono più e alla fine non serve più essendo un dato oramai trascurabilissimo di inutile gigantismo e basta non serve più questo dettaglio del volo al percorso dantesco questo sì di nuova ascesa verso una condizione ricostruttiva di che cosa della natura divina dell'anima del percorso del volo dell'anima un volo quello sì che dovrebbe essere di natura angelica verso il recupero di una identità con Dio una identità con il figlio di Dio l'uomo creato a sua immagine e somigliato ecco queste alcune delle notazioni relative al canto che possono dare un'idea appunto della grossa articolazione molte cose restano fuori da questa possibile interpretazione ma è quasi ogni canto anzi senz'altro ogni canto della commedia richiederebbe ore e ore di conversazione e di esposizione per poter essere percorso a dovere questo non lo possiamo fare quindi non mi resta a questo punto visto che anche il tempo a mia disposizione ormai è trascorso non mi resta che leggere il testo del canto trentaquattresimo che sicuramente servirà a evocare numerosi altri elementi rispetto alla mia lettura e forse anche a far maturare qualcuna delle suggestioni che sono riuscito a dare con le mie parole vexilla regis prodeunt inferni verso di noi però dinanzi mira disse il maestro mio se tu discerni come quando una grossa nebbia aspira o quando l'emisperio nostro annota par di lungi un molin che il vento gira vedermi parve un tal dificio a lotta poi per lo vento mi restrinsi retro al duca mio che non gli era altra grotta già era e con paura il metto in metro là dove l'ombre tutte erano coperte e trasparien come festuca in vetro altre sono a giacere altre stanno erte quella col capo e quella con le piante altra comarco il volto a piero in verde quando noi fummo fatti tanto avante che al mio maestro piacque dimostrarmi la creatura che ebbe il bel sembiante d'innanzi mi si tolse e fe restarmi ecco dite dicendo ed ecco il loco dove convien che di fortezza darmi com'io divenni allora gelato e fioco non dimandare lettore chi non lo scrivo però con gli parlare sarebbe poco io non morì e non rimasi vivo penso oggi mai per te sai fior di ingegno quali ho divenni d'uno e d'altro privo l'omperador del doloroso regno da mezzo il petto uscì a fuori della ghiaccia e più con un gigante io mi convegno che i giganti non fan con le sue braccia vedi oggi mai quant'esser dè quel tutto che a così fatta parte si confaggia se il fu si bello com'elli è or brutto e contro al suo fattore al sole ciglia ben dè da lui procedere ogni rutto o quanto parvi a me gran meraviglia quando io vidi tre facce alla sua testa l'una dinanzi e quella era vermiglia l'altra erano due che si aggiungniano a questa sovresso il mezzo di ciascuna spalla e se giugniano al luogo della cresta e la destra parea tra bianca e gialla la sinistra a vedere era tal quali venion di là onde il nilo s'avvalla sotto ciascuna uscivano due grandali quanto si convenia a tanto uccello vele di mar non vidio mai cotali non avean penne ma di vispistrello era lor modo e quelle svolazzava sì che tre venti si muovean da ello quindi cosito tutto saggelava con sei occhi piangea e per tre menti gocciava il pianto e sanguinosa bava da ogni bocca di rompea codenti un peccatore a guisa di maciulla sì che tre ne facea così dolenti a quel dinanzi il mordere era nulla verso il graffiar che talvolta la schiena rimanea della pelle tutta brulla quell'anima la succa maggior pena disse il maestro è giù da scariotto che il capo ha dentro e fuor le gambe mena per gli altri due che hanno il capo di sotto quel che pende dal nero ceffo è bruto vedi come si storce e non fa morte e l'altro è Cassio che parsi in men bruto ma la notte risurge e oramai è da partire che tutto avem veduto come a lui piacque il collo li avvinghiai ed è il prese di tempo e l'uovo poste e quando l'ali fuor aperte assai appigliò sé alle vellute coste di vello in vello giù discese poscia tra il folto pelo e le gelate croste quando noi fummo là dove la coscia si volge appunto in sul grosso dell'anche lo duca con fatica e con angoscia volse la testa oveglia rea le zanche e aggrappossi al pel comune che sale sì che l'inferno gli credea torna ranco attienti ben che per cotali scale disse il maestro manzando con buon lasso convienzi di partire da tanto male poi uscì fuor per lo foro di un sasso e puose me in sull'orlo a sedere appresso posse a me l'accorto passo io levai gli occhi e credetti vedere lucifero com'io l'avea lasciato e vidili le gambe in su tenere e si io divenni allora travagliato la gente grossa i pensi che non vede qual è quel punto che avea passato levati su disse il maestro in piede la via è lunga il cammino è malvagio e già il sole a mezza terza riede non era camminata di palagio la veravan ma natural burella cavea malsuolo e di lume disagio prima che io dell'abisso mi divella maestro mio di sì quando fu dritto a trarmi derro un po' come favella ovella ghiaccia e questi come è fitto sì sotto sopra e come in sì poco ora da sera a mane ha fatto il sol tragitto ed egli a me tu immagini ancora d'essere di là dal centro ovvio mi presi al pel del vermo leo che il mondo fora di là fostico tanto quanti ho scesi quando io mi volsi tu passasti il punto al quale si tragon d'ogne parte i pesi e se or sotto l'emisperio giunto che è opposito a quel che la gran secca coverchia e sotto il colmo consunto fu l'uomo che nacque e visse senza pecca tu hai i piedi in su piccio la spera che l'altra faccia fa della giudecca qui è daman quando di là è sera e questi che ne fe scala col pelo fitto e ancora sì come primera da questa parte cadde giù dal cielo e la terra che pria di qua si sporse per paura di lui fede il mar velo e venne all'emisperio nostro e forse per fuggir lui lasciò qui luogo voto quella cappar di qua e su ricorse luogo è laggiù da bel zebu remoto tanto quanto la tomba si distende che non per vista ma per suono è noto d'un ruscelletto che qui vi discende per la buca di un sasso che li aroso col corso che li avvolge e poco pende lo duca e io per quel cammino ascoso entrammo a ritornare nel chiaro mondo e senza cura ver da alcun riposo salimmo su e il primo e io secondo tanto chi vidi delle cose belle che porta il cielo per un perduro tondo e quindi uscimmo a rivedere le stelle grazie buona serata a tutti grazie grazie